E adesso? E adesso? Aiuto! Aiuto! Cazzo la moto! Aiuto! Cazzo proprio qua ti devi fermare te! Cazzo! Ma porca trota! Dai! No! Cazzo di chi? Ma guarda a te come cazzo! C'è il fatto? Eh sì, adesso è accesa! Bene! Oh! Tira! Quasi! Ah! E meno male che ho potuto parcheggiare! Fermati lì! E ora? Accendi! Sì! Che par facil! Tutto il quattro tempio! Ah! Si è spenta! Ah! Tira il rosso! No! Allora! 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 Perché siamo fo' incastrati! Se l'accendevi, saltavi di qui e andavi su di lì! Secondo! Per la visione! Sì! Grazie a tutti.